Eccoci, buonasera, ben ritrovati a tutti con la prima serata del mese di marzo di esperienze strategiche. Buonasera Malvina. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Veronica. Ciao Malvina. Io chiedo scusa per la mia voce in anticipo, ma insomma ho un po' di tosse e un pochino di influenza, quindi mi perdonerete se ogni tanto anche staccherò il microfono per tostiro se non riuscirò a parlare insomma con la voce di sempre. Tanto c'è Malvina che ci aglietterà la serata con questo tema tosse. Cerchiamo di così, da un tema tosse trovare anche delle cose un po' divertenti perché sennò veramente... Assolutamente, intanto le persone incominciano a connettersi. Malvina, tu sei stata ospite di esperienze strategiche già diverse volte, però noi sai che presentiamo sempre nuovamente le persone che sono con noi in modo tale che chi invece non le conoscesse possa conoscerle prima dello speech. Nel frattempo facciamo saluti a chi si sta connettendo. Buonasera Angela, che vedo che si sta connettendo. Bene. Allora, Malvina è psicologa, è psicoterapeuta ufficiale, ricercatrice e docente del centro di terapia strategica e questa sera inaugura le serate del mese di marzo in italiano parlandoci di un tema, io l'ho definito abbastanza tosto perché ricordo la mia, maledetta adolescenza, gestire i conflitti con i figli adolescenti. Direi che stasera ci saranno anche delle ricette che le persone potranno apprendere e mettere in pratica. Buonasera a chi si sta connettendo, vedo che mano a mano si connettono le persone. Isabella. Allora, Malvina, io partirei perché sono un po' curiosa del tema che hai scelto. Perché hai deciso e hai scelto il conflitto adolescenziale come tema di questa sera? Allora, la prima cosa che mi viene da dire è perché sicuramente è un tema che ci tocca tutti quanti. Siamo stati tutti adolescenti e prima o poi più o meno diventeremo genitori, non tutti però quasi, e ci troveremo ad affrontare l'adolescenza dall'altro lato, no? Quindi, insomma, sappiamo un po' per nostra esperienza personale, un po' perché quando diventiamo genitori lo viviamo dall'altra parte che, insomma, è un periodo un po' complicato. Ecco. Poi mi viene da dire una cosa, nella precedente tua intervista che avevi fatto con Stefano Bartoli sul conflitto, se non erro, nel caso andate a vederla se ve la foste persa, era venuto fuori a un certo punto, credo da una domanda delle persone che si erano connesse, la necessità diciamo di affrontare questo argomento, no? E avendola seguito ho detto, beh, effettivamente perché no? Perché l'altro motivo è che ultimamente, devo dire, nella mia pratica clinica, ma confrontandomi con i colleghi, lo vedo tanto, anche dagli altri, sono aumentate a dismisura le richieste di intervento da parte dei genitori per capire come ristabilire il rapporto con i loro figli adolescenti e su come gestire anche il loro comportamento. Da parte degli adolescenti, invece, è aumentata tantissimo la richiesta, penso che questo veramente i colleghi l'abbiamo visto tanto dal covid in poi, di aiuto psicologico per quello che oggi loro definiscono disagio, ho un disagio, lo vivo come un disagio, eccetera. Disagio che molto spesso alla fine è frutto di un conflitto che questi ragazzi non sono in grado di gestire. Il mio intervento di stasera è però prevalentemente rivolto ai genitori, in particolare mi rivolgerò a tutti quelli che si sentono confusi, esauriti, che non sanno cosa fare per ristabilire la pace in famiglia. E vi anticipo anche che può essere che alcune delle cose che dirò durante questa intervista probabilmente non piaceranno tanto, quindi scusatemi in anticipo, ma sappiate che l'eventuale senso di fastidio che sentirete è dovuto al fatto che probabilmente avrò toccato un tasto dolente e voi genitori in realtà lo sapete. Allora, cominciamo col dire che sicuramente crescere un figlio è una continua sfida ad ogni età e noi genitori non abbiamo un libretto di istruzioni e ci sentiamo costantemente sotto la lente di ingrandimento di nonni, amici, scuola, società in generale, quindi è sicuramente un lavoro difficile per il quale non veniamo preparati adeguatamente. E in più c'è anche da dire che il genitore moderno è oggi come oggi veramente bombardato di informazioni sullo sviluppo psicofisico del bambino, da arrivare addirittura a sentirsi in colpa per averlo sgridato. Qui, Veronica, ti faccio un esempio. Mi è capitato veramente spesso di sentire mamme che in seduta mi dicono ma non è che se io oppure mio marito lo sgridiamo gli provochiamo un trauma? Quindi insomma se siamo arrivati a questo vuol dire che probabilmente le informazioni che arrivano sulle difficoltà dei figli, sulle loro problematiche eccetera mettono veramente il genitore moderno un po' nella posizione di non sapere esattamente che cosa fare, che cosa sia giusto, che cosa sia corretto. Poi entrando più nello specifico del tema conflitto. Allora il conflitto nasce tra due persone generalmente o più quando ci sono due esigenze contrapposte, una vuole una cosa, l'altra persona ne vuole un'altra. In termini semplici è come se il conflitto nascesse da un no o nascesse da queste due letterine messe insieme no e approfondendo il no penso che vi siate tutti accorti di quanto sia effettivamente difficile dire dei no, è molto più semplice dire sì nella vita, dire o no non è cosa semplice verso nessuno. Questa difficoltà riguarda ogni interazione umana, tanto più quella con i nostri figli. È difficile sopportare ad esempio i capricci derivanti da un rifiuto ed è avvilente quando si ha un figlio adolescente sentirsi dire ti odio dal proprio figlio nel momento in cui gli neghiamo qualcosa a cui lui tiene. È più semplice ovviamente dire di sì e ottenere l'approvazione. Ma siamo così sicuri di ottenerla questa approvazione? Perché poi il punto è questo. Allora qui volevo raccontarvi un mio ricordo di tantissimo tempo fa, una vita quasi vent'anni fa. È un ricordo, un mio intervento a livello scolastico dove facevamo noi del gruppo, del vecchio posto dove lavoravo, dei giri nelle scuole per parlare con i ragazzi di dipendenze ma non solo. Ricordo benissimo questo intervento alle scuole superiori, ero in una prima, stavamo parlando di gioco d'azzardo che era poi il campo nel quale io sono nata professionalmente, parlavamo di dipendenze da droga e di alcol, ma ovviamente siamo arrivati a parlare di rapporto con i genitori e con la società in generale. A un certo punto uno di questi ragazzi, tra l'altro immagina questo ragazzo aveva un atteggiamento non verbale fantastico, era il classico positivo, quindi era seduto così con gambe sul banco, era proprio provocatorio sotto tutti i punti di vista. A un certo punto lui dice, bah sì coi genitori, tanto a me non frega niente perché tanto io posso fare tutto, esco quando voglio, torno quando voglio e ogni volta che chiedo qualcosa in regalo o che mi comprino qualcosa, i miei genitori me la comprano. Al che i confagni ovviamente hanno iniziato a dirgli, madonna ma che fortunato che sei, tutta questa libertà, che bello eccetera eccetera. E a quel punto questo ragazzo ci sorprese tutti quanti dicendoci, insomma mica tanto. Sgomento, scusa in che senso? Allora parte dei compagni si sono messi a ridere, pensavano che lui ci stesse prendendo in giro. Un'altra parte lo guardava come se fosse improvvisamente impazzito, no? Allora io gli chiesi di spiegarci meglio questo suo commento, perché mica tanto. E il ragazzo ci sorpresa ancora di più dandoci questa risposta. Disse, beh, per due motivi. Il primo motivo è che, allora, non ho regole da seguire e quindi che gusto c'è a trasgredire? E già lì io rimasi colpitissima da questo click che non mi sembrava molto vicino a un quattordicenne, quindicenne. Ma lui aggiunse e disse questa cosa, vedi io frequento gruppi poco raccomandabili, vado in giro con gente che delinque, che fa cose che non dovrebbe fare eccetera. Però lì regole ce ne sono e soprattutto ho un capo da seguire. Altro problema che mi disse oltre a questo è il fatto che i miei genitori sono persone che non mi piacciono, io non le stimo. E poi disse una frase molto forte e mi disse i miei genitori sono dei senza palle, io da grande non voglio diventare come loro. Silenzio assoluto in classe e diciamo che quella volta lì fu facile notarsi questa sua dichiarazione perché era intanto così strana che arrivasse da un ragazzo che aveva questo atteggiamento anche con me, provocatorio, oppositivo eccetera. Però denotava effettivamente un tipo di ragionamento che andava un attimino di là. Lui era proprio deluso dai suoi genitori e i suoi compagni, quelli che ridacchiavano pensando che lui stesse scherzando, in realtà si zittirono e ci fu un silenzio dove tutti iniziarono a pensare effettivamente soprattutto a questa seconda parte, non stimo i miei genitori. Io allora stasera in realtà quello di cui vorrei parlare perché il tema del conflitto adolescenziale in realtà Veronica, cioè potremmo occuparci interviste puntate su puntate su questa cosa. Stasera io volevo proprio perché lo pensavo indirezzato più ai genitori, spostare un po' sul discorso come c'è una parte del conflitto adolescenziale che assolutamente è necessaria ed è sana e c'è un'altra parte del conflitto adolescenziale invece che è il risultato, diciamo così, di modelli di famiglia o stili genitoriali che sono assolutamente disfunzionali. Quindi questa seconda parte in particolare è analizzando gli stili genitoriali prevalenti vedere come questi possono e creano per forza di cose un conflitto nel ragazzo o nella ragazza e così da stimolare un attimo anche una autoriflessione su come ognuno gestisce poi la propria casa, i propri figli. Partendo sempre dal presupposto che sicuramente non nasciamo imparati e quindi è chiaro che tutti noi come genitori abbiamo fatto errori, li ho fatti anch'io, continuerò probabilmente a farli, ma trovo che la cosa importante sia fermarsi un attimo a riflettere se c'è qualcosa che può essere migliorato, cambiato anche in base all'età che il nostro figlio ha, perché quello che facevamo quando il bambino aveva pochi mesi o pochi anni è un discorso, quello che facciamo quando il figlio ha l'età delle scuole elementari un altro e poi quando arrivano le medie e le superiori è di nuovo, dovremo ricominciare a imparare nuovamente come si può educare al meglio sapendo poi che ogni figlio è diverso, perché poi anche quella c'è come difficoltà. Sì, quindi diciamo le due facce, hai parlato di conflitto sano ed il conflitto invece come risposta genitoriale e disfunzionale, di cui già un piccolo esempio ci hai dato con il racconto che hai fatto in introduzione. Senti, quando parli di conflitto e sano è necessario, che cosa intendi? Allora, per rispondere a questa domanda vorrei fare una metafora, è una curiosità che ho scoperto anch'io recentemente, non so se sapete, se sai Veronica, che la ragosta è uno degli animali più longevi della Terra, ovviamente se non lo peschiamo e non lo mangiamo, se lo lasciassimo lì la ragosta potrebbe vivere addirittura fino a 130 anni, non so se lo sapevi, infatti io sono passato un attimo colpito e ho detto ah però ok. Come fa? Allora, la ragosta non nasce già gigante, grande come possiamo vedere nei piatti, se ce la gustiamo eccetera. In realtà nei primi cinque anni di vita la ragosta rompe il proprio carapace almeno 20 volte, nei successivi anni almeno due volte l'anno. Quella parte morbida e dolce interna che noi conosciamo bene, che cresce, ad un certo punto sente dolore perché dall'altra il carapace non si espande tanto quanto questa polpa, questo corpo succoso e ogni volta in cui la ragosta rompe il proprio esoscheletro resta per un periodo di tempo vulnerabile, quindi va anche a nascondersi sotto i sassi e questa vulnerabilità ovviamente la mette in pericolo, ma questo processo è necessario per evolversi e consentirle di crescere. Quindi cresce e sente dolore, rompe il carapace e sente dolore, resta vulnerabile e ha paura e sente dolore, ma quel dolore è utilissimo, serve a crescere, a creare e a trovare una corazza più ampia. Bene, la ragosta non ha a disposizione antidolorifici, non ha droghe o alcal e soprattutto non ha psicofarmaci. Noi sì. Ma come la ragosta abbiamo bisogno della trasformazione attraverso la rottura di ciò che ci proteggeva per crescere. Abbiamo bisogno dell'uscita dalla zona di comfort per crescere, abbiamo bisogno del conflitto per crescere. Pertanto il conflitto adolescenziale è sicuramente duro e frustrante per tutti gli attori in gioco, quindi figli e genitori. Crea dolore e fa paura perché ci si sente vulnerabili, come la ragosta appunto. Ma queste emozioni, ovvero paura e dolore, non vanno spente, vanno guardate in faccia, come già sappiamo, vanno attraversate e vanno cavalcate in alcuni casi, proprio perché portano alla trasformazione, all'ampliamento dei propri confini e alla creazione di nuove certezze. Non sempre avremo un figlio che esprime questo conflitto con noi apertamente, può anche essere un conflitto intimo, non esplosivo e pertanto nascosto, ma ci deve essere. Tante volte capita che alcuni genitori raccontino, no ma mio figlio questo conflitto adolescenziale, questo momento non lo sta vivendo, è tranquillo nella sostanza, il problema è che non esce. Il problema magari vengono perché pensano che abbiano, siano figli che hanno una fobia sociale o una qualche paura. Poi in realtà parlando col ragazzo emerge come in realtà quel conflitto loro lo stiano proprio vivendo, altro che se lo vivono, solo che non lo esprimono apertamente. Quindi è quella parte del conflitto davvero necessaria per fare uno step successivo e portare a una crescita, al trovare nuove sicurezze, nuove certezze. Ma in realtà il mio augurio a tutti, quindi ai ragazzi ma anche a noi adulti e genitori, è che il processo di trasformazione continui tutta la vita e quindi che ci sia il conflitto nella nostra vita in modo tale che se affrontato, se sentito e gestito possa portare tutti noi a migliorarci un pochettino. Quindi come ultimo tassello di questa parte sul conflitto necessario, volevo concludere dicendo a tutti i genitori di stare tranquilli perché il grosso del lavoro noi genitori lo facciamo nei primi 11-12 anni di vita. Sì, è in questa prima fase infatti che forniamo ai nostri figli tutte le basi, ovvero, adesso ne cito alcune, forniamo loro i valori, le regole, la capacità per esempio di gestione emotiva, i modelli di comportamento anche attraverso il nostro stesso comportamento con i modelli veri e propri da seguire, come comportarsi con gli altri, come interagire con gli altri, modelli di comunicazione, modelli di relazione e anche modelli di problem solving. Fino ai 12 anni, 11-12 anni, adesso magari si sta sempre più arretrando, però più o meno è quella l'età, quando si iniziano le scuole medie, i nostri figli ancora ci ascoltano e siamo un naturale punto di riferimento per loro. Con l'inizio invece della pre-adolescenza e soprattutto dell'adolescenza, l'attenzione dei nostri figli si sposta all'esterno, in particolare sul mondo dei coetanei e anche questo argomento è stato affrontato brillantemente dal professor Bartoletti alcune interviste fa. Ok, in psicologia dello sviluppo si definisce proprio questa parte della vita come seconda fase di separazione e individuazione. La prima fase avviene in realtà intorno ai tre anni, no? Tra i due e mezzo e quattro eccetera. La seconda parte invece, la seconda fase di separazione e individuazione avviene proprio a questa età qui. Cosa significa? Mi separo separazione, mi separo dalle figure genitoriali per trovare anche all'esterno delle risposte alle domande classiche di quell'età, ovvero chi sono io, cosa mi piace, cosa farò nella vita, che senso ha la mia vita? È il periodo in cui troviamo la nostra identità. Quindi un buon primo suggerimento per i genitori è quello di provare per quanto gli anni siano passati, per quanto uno abbia vissuto tante cose, tornare un po' con la memoria a quegli anni. Noi abbiamo vissuto l'adolescenza, i nostri figli non sono mai stati adulti, noi siamo stati ragazzi. Quindi tornare quei ricordi a quel periodo della nostra vita può aiutarci a comprendere meglio le dinamiche, i sentimenti e le emozioni che i nostri figli possono provare in quel momento. Certo. Grazie, grazie Malmina. Senti, questa quindi è la parte, diciamo, sana, no? È anche funzionale per la crescita, perché se non ci fosse non potremmo diventare poi adulti anche con un'identità, come dicevi. Mentre hai parlato prima anche di, però, conflitti come risposte a uno stile genitoriale disfunzionale. Cosa ci puoi dire di questo? Allora, qui entriamo proprio nel vivo. Allora, anche qui non vorrei dilongarmi troppo. Sapete già da tutti gli altri incontri fatti in questi anni, dai libri che sono pubblicati, che esistono diverse modelli di interazione genitori-figli. Ognuno di questi modelli ha vantaggi e svantaggi, eccetera. Ma come sappiamo già da visione strategica, no? Dell'essere umano, il problema non è tanto quando un sistema è flessibile, cambia ed è autocorrettivo, ma il problema nasce quando questo sistema, questo modello si irrigidisce. Perché nel momento in cui il mio stile genitoriale è uno stile che magari andava benissimo quando mio figlio aveva 6-7 anni, ma poi non si applica più, non va più così tanto bene quando mio figlio ne avrà 14-15, però io continuo, un po' come il mulo, no? A prendere a testate l'albero, perché quella è la strada che ho sempre fatto e alla fine mi spacco la testa. Capite bene che lì è il caso di iniziare a rivedere un attimo uno stile che magari fino a poco tempo prima poteva andare, adesso va un attimo flessibilizzato. Perché altrimenti diciamo che i danni, quindi non solo il conflitto, ma anche i danni che a volte si possono creare nei figli, li vedremo poi quando loro saranno adulti. Quindi insomma fermarsi un attimo a pensarci è buona cosa. Allora, diciamo che io in questa intervista qua ho selezionato tra i modelli di famiglia già analizzati dal professor Nardone, ne ho estrapolati 4 in realtà che sono anche quelli che un po' più facilmente troviamo oggi come oggi, perlomeno in ambulatorio. Allora, abbiamo il modello democratico permissivo, abbiamo il modello iperprotettivo, abbiamo quello delegante e abbiamo quello sacrificante. Quindi questi saranno i quattro, non me ne vogliate se non parlo di tutti, ma ho preso quelli che statisticamente almeno io ritrovo un po' più spesso. Allora, partiamo dal primo. Qui scusatemi, mi sono preso un po' di appunti così non mi perdo troppo in chiacchiere e riusciamo magari ad arrivare più velocemente al momento delle domande. Allora, partiamo col primo. Quello che vediamo un po' più spesso, penso che in ogni zona d'Italia più o meno possiamo dire che il modello democratico permissivo è quello che in questo momento storico, proprio per i motivi esplicitati prima, sia quello che troviamo un po' più spesso. Che cosa significa democratico permissivo? Lo dice già la parola. I genitori che rientrano in questo tipo di modello educativo dialogano tantissimo con i figli, tanto, con lo scopo di far accettare loro o le decisioni, oppure per scegliere insieme ciò che mette d'accordo tutti, evitando il trauma del rifiuto o del dover fare qualcosa che va contro i desideri. Le scelte e i no vengono sempre ponderati, spiegati dettagliatamente, affinché il bambino o il ragazzo possa condividere la decisione dei genitori o avere anche la possibilità di dire la sua per giungere insieme a questo compromesso che mette d'accordo tutti. Un po' come si fa in Parlamento, per l'appunto, democratico permissivo. Generalmente in questo tipo di modello le gerarchie sono assenti e le convinzioni di base che muovono i genitori a comportarsi democraticamente sono queste, ve le leggo perché sono scritte veramente bene. Le cose vanno fatte per convincimento e consenso, non per imposizione. Quindi imposizione non va. Il consenso si ottiene con il dialogo fondato su argomenti validi e ragionevoli e questo in adolescenza diventa un grossissimo problema. A livello logico loro sono assolutamente in grado di fregarti sotto la parte ragionevole. Le regole vanno sempre concordate, la contrattazione funziona ed è il naturale antidoto alla prevaricazione. Il fine principale da perseguire è l'armonia e l'assenza di conflitto. Tutti i componenti della famiglia hanno gli stessi diritti e aggiungo un pezzettino, molto spesso genitori e figli in questo modello sono più amici che, diciamo, gerarchicamente distaccati. Risulta un modello dannoso in realtà per vari motivi. Quando il figlio e la figlia sono un po' più piccolini, in realtà in questo modo ne carichiamo il bambino di responsabilità che non è in grado di prendere perché i bambini, anche i ragazzi, sono generalmente spinti a decidere in base al piacere del momento. Non è detto che quella scelta sia poi la più sana per lui, questo lo possiamo sapere noi. A nessuno piace andare dal dentista, per intenderci, però sappiamo che è il caso di andarci, di affrontare quella cosa. Adesso uso l'esempio del dentista, ma ovviamente qui si parla di altro. Ovviamente questo tipo di modello rende i ragazzi molto più, diciamo, viziati e se più piccoli incline ai capricci. In più, l'altro problema di questo modello è che dirresponsabilizza il genitore, che perde così il ruolo genitoriale ed educativo. Più trascorrerà tempo senza che il genitore abbia un ruolo decisionale, di guida, di leadership, più sarà difficile costruirlo. In adolescenza il ragazzo si dovrà scontrare col fatto che fuori dalla propria famiglia invece esistono le gerarchie ed esistono regole, che deve seguire anche se non lo trovano d'accordo. Altro problema, non sarà in grado di riconoscere l'autorità e la gerarchia, per esempio, nella scuola o nel lavoro. Non l'ha imparata prima e quindi per lui sarà veramente difficile. E sarà che tutto possa essere contrattato e che tutto possa essere frutto di una scelta per poi scontrarsi con un mondo che non combacia con quello conosciuto fino a quel momento. Il conflitto in questo tipo di famiglia sarà un conflitto esplicito, diretto. Infatti basterà che il genitore provi a imporre mezza regola e vedrà come il figlio, abituato da anni a ovviamente discutere su tutto, esploderà in una violenta ribellione. È come se l'adolescente in quel momento pensate, e ti dico, non è tanto è come se gli adolescenti mi dicono, ma cosa vuole mio padre, cosa vuole mia madre, come si permette di impormi qualcosa? Non lo ha mai fatto. E in quel momento come dare loro torto, capisci? E poi ti dicono anche, mi hanno sempre insegnato che ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. E questo discorso purtroppo te lo fanno su tutto. Per finire questo tipo di modello, basti pensare che effettivamente non è che si può passare con facilità dalla democrazia all'autoritarismo, così in un attimo. Quindi questo è il conflitto all'interno di questo tipo di famiglia democratico permissiva. Il secondo modello che stiamo da anni ormai incontrando è ovviamente il modello iperprotettivo. Anche qui, credo che il nome già contenga tutto, qui il genitore tutela eccessivamente il figlio e cerca di difenderlo ovviamente da ogni pericolo, da ogni possibile delusione e cerca di evitargli il peso delle responsabilità. Lo difende da tutto ciò che potrebbe spaventarlo o farlo soffrire. Si sostituisce al figlio, lo anticipa, lo accontenta in tutto, le regole sono un po' così arbitrarie e facilmente cambiabili, sostituibili. E le conseguenze delle azioni spesso sono inesistenti. Spesso in questo tipo di famiglie, molto spesso, l'iperprotezione porta anche a dare la colpa di eventuali fallimenti o di cose che non vanno all'esterno. Quindi sarà sempre colpa o della scuola o degli insegnanti o degli altri compagni. Non è mai colpa del ragazzo o della famiglia. Ovviamente viziato, protetto e assecondato fin da piccolo, quando diventa adolescente, si scontrerà con una realtà ben diversa da quella iperprotettiva familiare e sarà costretto a combattere le battaglie della vita senza essere armato, perché non sa come si fa affrontando fallimenti, incontrando persone più brave di lui o di lei e la doccia fredda sarà potente. Quindi diciamo che quello che i figli imparano nella famiglia iperprotettiva è che non è importante impegnarsi più di tanto, perché tanto non ci saranno conseguenze. I miei genitori mi possono salvare in ogni situazione, quindi possono intervenire e risolvere tutto. Premi e regali arrivano comunque, perché tanto sono vivo e solo per fatto di essere vivo, premi e regali arrivano. E quindi fatica, impegno, costanza, cretini chi la mette in pratica, perché non serve a niente faticare, tanto arriva tutto da sé. E purtroppo questo argomento si collega tantissimo con quello dell'autostima, ovvero ricordiamoci che l'autostima non è qualcosa che ci viene iniettato da fuori. Certo, ovviamente anche i feedback delle persone che ci stanno intorno sono, diciamo, importanti ovviamente e ci confermano che stiamo facendo bene. Ma l'autostima, c'è la parola auto, è un processo personale, è un cammino intimo. Ogni volta che ci troveremo davanti a un problema, un ostacolo e quell'ostacolo io sarò in grado di affrontarlo in prima persona e superarlo senza che qualcuno affronti quella sfida al posto mio, ecco che lì, in quel momento, mi accorgerò che valgo, che ce la posso fare e imparerò che non sempre si vince, anzi forse sono più le sconfitte alla fine se non fai i conti. Ogni volta sarò in grado di rimettermi i piedi, di scrollarmi addosso, di dosso la polvere, peccarmi le ferite se ci sono e ripartire. E diventerò sempre più bravo a capire anche come superare i vari ostacoli della vita. Perché a volte dovrò semplicemente, sì, avere costanza e non mollare. Altre volte invece dovrò proprio cambiare stare da cambiare strategia. Altre volte mi accorgerò che quella difficoltà è troppo grande per me, per i miei strumenti tecnici o emotivi, per esempio, e avrò bisogno dell'aiuto di qualcuno e quindi capirò che è importante chiedere aiuto se ne ho bisogno. Io tra l'altro avevo già fatto una diretta su questo argomento per certi versi che è online, si chiama, se non ricordo male, lascia faccio io, qualcosa del genere, dove parlavo proprio di questo. Tra le soluzioni che mi sento di suggerire a questo tipo di famiglia iperprotettiva, allora la prima detta e stradetta è assumere quell'atteggiamento, per carità, difficilissimo, molto molto faticoso per un genitore iperprotettivo, ma molto molto utile, ovvero osservare senza intervenire, cioè fare quel famoso passetto indietro per vedere come il nostro figlio ancora giovane se la cava di fronte alle situazioni, alle difficoltà della vita e sapere che se hanno bisogno, se mio figlio ha bisogno, io ci sono. Questo è importante che lui lo sappia, ma sicuramente lo sa perché le famiglie protettive lo hanno già esplicitato più volte e poi sarebbe, diciamo così, soprattutto quando sono più gradicelli, adolescenti, alle superiori, iniziare magari a fare quelli che noi chiamiamo i piccoli boicottaggi, no? Su attività quotidiane dove generalmente faceva il genitore iniziare a boicottare un po' e lasciar fare a loro, mettendoli nella situazione di poter poter fare passo passo ciò che non avevano mai affrontato prima. Un altro modello in voga, dal mio punto di vista, perché io almeno qua nella mia zona lo vedo ancora tantissimo, è il modello sacrificante, ovvero quei genitori che si sacrificano costantemente, ma non solo quei figli, generalmente lo fanno un po' con tutti, ecco, danno il massimo agli altri perché in un certo senso probabilmente pensano che il sacrificio renda buoni e che prima o poi verranno ripagati dal karma, dalla vita, anche solo in termini di riconoscenza da parte dell'altro. In questi casi qui la relazione con i figli è spesso basata su questo altruismo un po' insano e i genitori danno, 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 senza che mai venga chiesto nulla in cambio. È facile immaginare che in tal modo assisteremo alla crescita di ragazzi che penseranno che tutto gli sia dovuto e che pretenderanno dai genitori ogni tipo di aiuto, soprattutto materiale. I genitori a loro volta saranno pronti a rinfacciare tutto quello che hanno fatto o fanno per loro. Ma come? Con tutto quello che ho fatto per te, sei un figlio ingrato. E dite la verità, avete già sentito questa frase da qualche parte? Ci scommetto. Credo che a qualcuno risuoni. A questo punto i figli purtroppo crescono non rispettando i genitori e purtroppo tantissime volte anche vergognandosi di loro. Sono attratti da miti di successo e non sono disposti a fare soccorifici per ottenerli. Il problema qui è che in adolescenza si profilano dal mio punto di vista tre scenari possibili, ovvero il giovane che non è abituato a frustrazioni, rifiuti, eccetera, incontra difficoltà nel mondo esterno, ovviamente, perché gli sbatte in faccia la dura realtà e a quel punto torna in famiglia. Quindi si richiude su se stesso, si ripiega su se stesso e vive un fortissimo senso di frustrazione per aver evitato le battaglie della vita. In questo caso qui il conflitto passerà attraverso frasi squalificanti nei confronti dei genitori che diventeranno il cestino perfetto nel quale gettare tutta la loro rabbia e frustrazione. Il secondo esito è che il figlio è disposto a tutto pur di non rientrare in famiglia, perché se ne vergogna, perché vuole andarsene, eccetera. Cercherà contesti di gruppo dove basta conformarsi per essere accettati. In questo caso il conflitto passa proprio attraverso il rifiuto dei propri genitori, dei quali ci si vergogna e con i quali si passerà sempre meno tempo possibile. Terza possibilità, il ragazzo abbraccia il modello basato sul sacrificio. In questa situazione il figlio sperimenterà che pur avendo aderito al modello familiare, seguendo l'esempio dei propri genitori, quindi sacrificandosi per tutto e per in realtà non ottiene soddisfazione personale. Il conflitto in questi casi qui non verrà tanto agito nei confronti dei propri genitori, almeno non in adolescenza, ma si esplicherà contro o se stesso, io sempre solito che mi sacrifico per gli altri che poi non mi danno niente la volta di cui ho bisogno io, nessuno mi considera, bla bla bla, o con le altre persone. Guarda quelli lì come sono degli irriconoscenti e quindi in generale sono persone che diventeranno adulte, ma probabilmente con la gastrite, cioè con tanta rabbia e frustrazione accumulata. Noi strategici abbiamo definito due copioni che potrebbero orientare un po' come esito in età adulta del modello sacrificante, ovvero la prostituzione relazionale da una parte, dall'altra è comportamenti, il vasto campo dei comportamenti passivo-aggressivi, quindi tutta la parte anche delle paranoie e via dicendo. Allora, mi viene qua da consigliare una cosa, se vi riconoscete in questo copione iniziate a sacrificarvi davvero, cari genitori, fate qualcosa che non vi viene spontaneo e che vi costerà assolutamente molta fatica, ovvero iniziate a dire su piccole cose quotidiane ai vostri giovani figli, scusa amore ma non ce la faccio, non ce la faccio perché economicamente in questo momento non ce la faccio oppure non ce la faccio a fare questa cosa perché fisicamente non riesco a farla, scusa ma non ce la faccio. È molto difficile per persone sacrificanti pronunciare questa frase ma bisogna mettere di fronte l'evidenza che c'è bisogno di un sacrificio ulteriore se si vogliono vedere degli esiti differenti nei nostri futuri adulti, quindi per amore dei figli secondo me è un sacrificio che si può fare. Poi, ultima cosa sul modello sacrificante, questo è per alcune persone all'interno del modello sacrificante, ovvero quelli che si sacrificano perché lo faccio per te figlio mio in modo tale che tu possa diventare medico, ingegnere, bla bla bla. Allora, frase forte Veronica, lo so, però non posso non dirla. Non avete messo al mondo un figlio per soddisfare le vostre aspettative. Fate un bel regalo a questi ragazzi, regalategli la piena responsabilità della loro realizzazione. Poi arriviamo all'ultimo modello che anche questo, devo dire, sta iniziando a essere piuttosto presente che è il modello delegante. Allora, sarà sicuramente perché non c'è mai tempo, lavoriamo tanto, abbiamo anche due o tre lavori, siamo stressati. Oppure, possiamo essere spaesati, inermi, di fronte ai cambiamenti sociali, come abbiamo detto, non sappiamo come fare i genitori. Oppure, possiamo essere adulti sulla carta d'identità, ma di fatto siamo ancora ragazzini e non vogliamo diciamo responsabilità o sbattimenti, diciamo, ci piace di più l'idea di continuare a divertirci. Il punto è che più spesso ci sono genitori che delegano il loro ruolo a qualcun altro. Quindi, nel modello familiare delegante, il genitore delega la gestione dei figli, l'educazione e di conseguenza il proprio ruolo o alla famiglia allargata, non i zii, parenti vari, oppure alla società. Ci pensa la scuola, ci pensano gli insegnanti, ci pensano gli educatori, ci pensa lo psicologo. O delegano a YouTube. In questo modello ci sono generazioni diverse, ovviamente, che si prendono cura dei ragazzi, no? E quindi ci sono tante modalità proprio di gestione, tante quante sono gli attori, no? In gioco. Ognuno col proprio stile personale, col risultato che si creano dinamiche competitive, vedi scuola genitori, che spesso succede, dove il ragazzo impara ad adottare comportamenti diversi con ognuno per ottenere quello che vuole. Quindi sicuramente si fa furbo, però ci sono i termini di educazione, di creare futuri adulti inseriti e ovviamente questi figli manipolando gli altri cresceranno cercando di trarre vantaggio dalle situazioni. Non avendo una guida ben definita, il problema è che ne cercheranno di fuori. Quindi nel migliore dei casi, se va con tanta fortuna, i nostri figli troveranno delle persone per bene. Altre volte purtroppo queste guide sono dei delinquenti. Oppure non trovando nessuno di abbastanza, diciamo così, carismatico, affascinante, potranno assumere loro stessi per primi il ruolo di guida e lo faranno mettendosi alla prova, anche con comportamenti rischiosi per definire la propria identità e diventare loro i leader. Allora, il primo problema di questo tipo di famiglia è quello che dicevo, ovvero chi si occupa di loro dovrebbe fare fronte comune e ovviamente più sono le persone coinvolte nella gestione di questi ragazzi, nella loro educazione, più è difficile fare questo. Il secondo è che i genitori perdono di fatto il loro ruolo e la loro autorevolezza, o meglio non ce l'hanno mai avuto in realtà. Quindi i figli finiscono per vedere i loro genitori come più che altro dei fratelli maggiori o degli amici o nella peggiore delle ipotesi come dei vancomat. E infine i ragazzi crescono non avendo un punto di rifiamento, cosa si diceva prima. Cosa succede quando poi in adolescenza i genitori tentano di riprendere il controllo e riprendere in mano la situazione? I figli ovviamente non riconosceranno loro la figura di guida, li rifiuteranno e nel momento in cui saranno in difficoltà andranno a cercare aiuto altrove. In più, essendo stati bambini non visti, perché messi sempre da parte, vai davanti al computer, vai dalla nonna, vai dallo zio, ma ci pensa alla scuola, vai con i compagni, un po' sbatacchiati così a destra e a sinistra, diventano adolescenti che avranno un gran bisogno di ottenere l'attenzione, di essere visti. Il bisogno di attenzione e il bisogno di una guida li mette veramente, fortemente a rischio di venire risucchiati in giri pericolosi. E direi che questo è già sufficiente nello spiegare come si manifesta il conflitto in questo modello familiare. Quello che risulta evidente è che bisogna lavorare per ristabilire i ruoli e per ridare a ognuno le proprie responsabilità. Però Veronica, ti dico la verità, forse sono un po' disillusa in questo senso. I genitori con questo stile educativo, che in realtà è un non stile, delegano anche eventuali difficoltà che i loro figli possono avere. Quindi tante volte noi ci troviamo in studio con questi genitori che ci portano i figli come fossero un pacco postale e ci dicono aggiustamelo o no. Sì, si concordo in pieno, assolutamente. E tra l'altro disinteressandosi completamente del percorso terapeutico magari o ancora peggio boicottando la terapia. Purtroppo mi è capitato parecchie volte. Quindi concludo questo mio intervento dicendovi comunque tranquilli perché ogni problema ha la sua soluzione. Quindi state tranquilli. Evitate di sentirvi in colpa perché come vi dicevo all'inizio l'importante in realtà è evitare di perseverare nell'errore, quindi accorgersi che o forse qualcosa mi ha risuonato, qua mi riconosco. Però ricordiamoci sempre, come diceva Oscar Wilde, che è con le migliori intenzioni che si ottengono gli effetti peggiori. Certo. Grazie per questa carrellata perché sicuramente chi sta mettendo in atto un copione anche irrigidito lo sente e hai già dato anche dei piccoli strumenti per poterne uscire, per poterci lavorare e a volte anche solamente accorgersi che stai facendo la cosa sbagliata, la cosa scorretta per quello che è il tuo obiettivo, perché poi l'abbiamo detto, le intenzioni saranno sempre migliori, tutti i genitori hanno buone intenzioni, non c'è nessuno. Pensiamo che faccia deliberatamente per creare un danno, ma si possono invece creare i danni di cui tu parlavi. Intanto ti riporto i complimenti e i saluti di tante persone che ci stanno scrivendo, Roberto, Maria, Loretta, Maria Grazia, Emma, Gloria, Ivana. Poi me le guardo tutte quando riguarderò la diretta nei prossimi giorni, poi vi saluto tutti. Bene, sei stata molto molto esaustiva nel tuo intervento, ma noi ricordiamo… Scusate, anche un po' lunga Veronica, perdonami. Nessun problema, siamo rimasti tutti con gli occhi attaccati allo schermo e con le orecchie aperte per ascoltarti. Però noi ricordiamo al pubblico che ci sta seguendo che dopo la nostra domanda di rito sui libri che secondo te dovremmo leggere, c'è uno spazio anche per le domande, se ci sono delle curiosità o delle richieste di approfondimento rispetto a quello che abbiamo condiviso. Però passiamo ai libri, come dicevamo. Malmina, ci dici un paio di titoli che secondo te dovremmo leggere? Beh, direi che più o meno si è capito soprattutto sugli aficionados che seguono la nostra pagina del Centro di Terapia Strategica. Allora direi il primo è ovviamente Modelli di Famiglia, scritto ormai più di vent'anni fa. Modelli di Famiglia, il titolo è Conoscere e risolvere i problemi tra genitori e figli. Scusate, non ce l'ho qua, ma sono fisicamente a casa mia, non sono in studio. Di Nardone Giannotti Rocchi, ancora attualissimo, quindi io vi consiglierei di leggerlo, molto fruibile da parte di tutti. Poi l'altro già citato in altre dirette ovviamente è Aiutare i genitori ad aiutare i figli, ovvero problemi e soluzioni per il ciclo di vita. Anche questo del professor Nardone, più il contributo di tantissimi di noi dell'equip del Centro di Terapia Strategica. E come terzo libro faccio una sorta di annuncio sul futuro perché sta già iniziando a uscire sui social. Non l'ho letto perché uscirà il 22 di marzo venerdì. Uscirà il libro Adolescenza in bilico, come stanno gli adulti di domani, le psicopatologie emergenti e la loro terapia in tempi brevi di Giorgio Nardone, Elisa Balbi e Elena Boggiani. Lo consigliamo, certo, perché non ho dubbio, conoscendo gli autori e le autrici di questo libro qua, che sarà assolutamente un libro non da leggere, da mangiare, perché sarà scritto benissimo, quindi ve lo consiglio. Uscirà venerdì, se non sbaglio, il 22 marzo, dovrebbe essere venerdì. Sì. Ok. Andiamo di 22 marzo, è venerdì, corretto. Allora, bene, bene, tanto che io vado a sbirciare se c'è qualche domanda. Ci sono dei complimenti, Loretta ci dice che è molto interessante, che anche se non ha figli adolescenti l'è servito comunque. Ah, bene, bene. Così inizia a lavorarci prima. Lei potrebbe avere il libretto di istruzioni, brava. Per l'uso. Manoli invece ci chiede, quali tecniche strategiche sono più usate nel caso di famiglie disfunzionali con adolescenti? Ok, in assoluto quella che viene utilizzata di più, mi viene da dire, è osservare senza intervenire. È quasi una soluzione, diciamo, standard iniziale, dove chiedendo al genitore di fare il famoso passo indietro per vedere che cosa succede, in realtà va sempre bene, perché a quel punto lì, se loro si allontanano, quindi non intervengono, ma sono bravi nell'osservare quello che accade, ma soprattutto osservare se ci sono eccezioni positive a quello che è il problema manifestato, se le segnano, quindi diventano come degli antropologi, come che studiano gli animali allo zoo, in questo caso le persone, i loro figli. In questo modo per noi a livello terapeutico diventa molto utile verificare se farsi da parte, lasciar fare, può già essere parte della soluzione, quindi sono molto d'aiuto, in quel caso i genitori. Dall'altra parte magari scoprono delle dinamiche che nemmeno loro conoscevano, sia del problema, ma potrebbero anche stupirsi di quanto sono bravi questi figli a gestire in autonomia determinate difficoltà. Quindi mi verrebbe da dire che questa è in assoluto, forse quella che diamo di più all'inizio. Poi è chiaro che va tutto sempre calzato alla situazione e al modello di famiglia. Sì, infatti come dicevi, il modello di famiglia, anche le tentate soluzioni ovviamente delle famiglie che vengono riportate, come dicevi anche prima, quindi forse questa è la tecnica principale, ma poi con ogni... È certo, ma anche perché generalmente nella maggioranza di questi modelli che abbiamo visto in realtà i genitori intervengono, quindi c'è sempre questo... in un modo o nell'altro si sente da genitore la necessità di intervenire e fare qualcosa, soprattutto perché vediamo che insomma il nostro figlio non sta bene, quindi viene da sé che anche la famiglia delegante che delega arriva a preoccuparsi. D'accordo? Però tante volte c'è chi interviene troppo, c'è chi non interviene affatto e comunque sia fare il passo indietro ci dà anche la possibilità di vedere le risorse del ragazzo, insomma. Guarda, Emilia ci parla, solleva un punto interessante di cui abbiamo parlato anche in altre dirette, cioè la tua relazione è ben dote e ben strutturata, però dici un unico rilievo, i genitori qua sono stati visti come un tutt'uno, mentre purtroppo a volte i conflitti nelle coppie complicano tutto, assolutamente sì, non so se su questo vuoi aggiungere qualcosa, vuoi dire qualcosa. Altra diretta, colleghi che si occupano delle coppie, ne conosco vari, fate dirette su questo, la coppia genitoriale. No, come dicevo all'inizio, il tema del conflitto raccoglie veramente tanti aspetti, è verissimo, è chiaro che quando c'è un conflitto nella coppia il tutto si complica, no? E tante volte i ragazzi sviluppano anche delle difficoltà proprio per distogliere l'attenzione, no? Da quello che sta succedendo nella coppia, ovvero, vi faccio un esempio abbastanza classico, siccome vedo che tra i miei genitori le cose non vanno, ma io voglio che loro stiano ancora insieme, faccio in modo di attirare l'attenzione, capito? Questo è chiaro. Dall'altra parte, nello stile educativo, no? Un genitore dice no, l'altro dice sì, ciao. E lì ovviamente arriviamo nel modello familiare che magari può essere più di stampo intermittente, quindi il ragazzo trova sempre segnali differenti, no? E non sa chi seguire, a chi credere e così via. Quindi è chiaro, ha ragione e ci sarebbe la necessità proprio di approfondire questo disaccordo, conflitto all'interno della coppia che genera conflitti a livello familiare. Quindi conflitti su conflitti a tanti livelli, no? Dobbiamo disinnescarne uno, ma dobbiamo disinnescare anche l'altro, comunque allinearsi anche dall'altro punto di vista, sì. Bene, bene, bene. Guarda allora, Malvina, secondo me sei stata veramente esaustiva al massimo perché ci hai dato le strategie, ci hai detto quando il conflitto può essere disfunzionale, può dipendere, diciamo, anche da famiglie diverse. C'è una domanda che non riguarda l'approccio genitoriale, ma c'è questa domanda che riguarda l'approccio come docente, no? Loretta ci chiede, da docente, come si può rapportare, secondo te, a tutte le quattro tipologie di genitori? Mi è visto in Cilè, e dice soprattutto con quelli iperprotettivi. Soprattutto con quelli iperprotettivi. Ah, questa è un'altra domandona e qua mi vengono altre idee per altre dirette, perché è vero, c'è chiaramente anche la difficoltà dei docenti nell'interagire, no? Con questi genitori, con tutti i genitori. Allora, diciamo che chiaramente a nessuno di noi piace, i nostri figli in un certo senso rappresentano, e lo vedrai Veronica negli anni, rappresentano un pezzetto di noi che va nel mondo, no? È come se ci rappresentassero, come se fossero una sorta di vetrina, no? Che viene mostrata, per cui se quel ragazzo è un ragazzo bravo, educato, che prende buoni voti, eccetera, eccetera, in un certo senso significa che alle spalle avrà una famiglia equilibrata, che funziona bene, eccetera. Purtroppo non è un'equazione matematica, quindi in realtà non è che funziona sempre così. Così come non è vero che il ragazzo sempre oppositivo, provocatorio, ribelle, eccetera, abbia alle spalle una brutta famiglia, una famiglia dove c'è violenza, eccetera, no? Io direi che proprio perché è un pezzettino di noi nel mondo, ovviamente se i docenti riuscissero a tenerlo in considerazione, a usare più che altro delle tecniche comunicative che vanno nell'ottica del «lei ha fatto il possibile, ha fatto un ottimo lavoro fino adesso, va tutto benissimo», dobbiamo cercare di fare un passetto in più, quindi avere quella attenzione comunicativa dove anziché togliere qualcosa al genitore o puntare ancora peggio il dito contro dicendo «è tutta colpa tua», dire «fino adesso ok, bene, tutto a posto, ma si potrebbe fare ancora meglio? Mi aiuta a fare in modo che suo figlio possa andare ancora meglio?» Cioè, diciamo che mi verrebbe quasi da dire che, e la cosa, l'esperimento anche quando faccio le mie docenze nelle scuole, effettivamente, nelle scuole dirette scusate agli insegnanti e ai docenti, effettivamente le cose che poi loro prendono e usano sono proprio le tecniche comunicative, verbali e non verbali, no? Quindi questa sarebbe la prima cosa, senza andare troppo nello specifico, sennò veramente anche qui varrebbe forse la pena fare una sera. Sì, perché effettivamente anche nella pratica clinica, dato che vedo parecchi docenti, non so perché statisticamente tra sanitari e docenti ce ne sono tantissimi, però effettivamente una delle tante difficoltà nel gestire il proprio lavoro non sono tanto i ragazzi quanto i genitori, quindi mi rendo proprio conto che sia complicato, che sia difficile. Provi a aggiungere qualcosa in più, potremmo fare questa, ottenere dei risultati ancora migliori, oppure potremmo pensare, guardi io sono sicura che il suo figlio riuscirà a prendere il 6, riuscirà a prendere il 7, sono strassicura. Proviamo a fare questa cosa qui, cioè diventare un po' propositivi in termini verbali e crederci noi per primi, no? Usare un po' quell'effetto Rosenthal, dove credo che quel ragazzo abbia l'intelligenza, la capacità per farcela e crediamoci noi per primi, no? E trasmettiamolo anche ai genitori. Grazie Malvina, quindi l'aiuto, no? Chiedere aiuto, come dicevi, gli aiutanti, i genitori come aiutanti. Però bello perché mi hai dato già un paio di idee per argomenti, per alcune dirette, quindi tieniti pronta, li organizziamo. Sì, sì, guarda, quelle sulle coppie, lo lasci fare alle coppie, che io con le coppie sono troppo romantica per riuscire con le coppie, sai? Invece quello con le docenti, sulla comunicazione, quella potrebbe essere una cosa interessante. Un bel tema, un bel tema anche nuovo, bene, bene. Allora Malvina, io ti ringrazio del tuo tempo, ti ringrazio di questa bella serata, ringrazio te, ringrazio come sempre il centro, Stefano Bartoli, il professor Nardone, tutte le persone che ci hanno seguito questa sera, essendo appunto partenza e senza lunedì. Prego, prego. Ecco, mi accodo anch'io a questi ringraziamenti, chiaramente in primis al centro di terapia, nel nome del professor Nardone, anche Stefano, veramente carinissimi, grazie per l'opportunità e grazie a te, perché è stato veramente un piacere, non si sentiva che eri in difficoltà da influenza, eccetera. Quindi è una voce molto sexy, devo dire. Quindi c'è anche il lato positivo nell'avere questa voce. Grazie, mi hai fatto una bella ristrutturazione. È vero. Grazie. Allora, noi con tutte le altre persone, anche con te, spero, ci vediamo anche lunedì prossimo. C'è l'anno del mese e parliamo sempre di figli, parleremo di figli con Gloria Evangelista, che ci tratterà il tema di Protesto Provoca, come spiazzare un figlio in tre mosse. Quindi sempre lunedì 25 alle ore 21. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a te, Malvina. Grazie, buona serata a tutti e un saluto a tutti. Grazie.